Buongiorno, sono la dottoressa Vincenza Rendo, ho uno studio dentistico a Spezia, la Spezia e ho conosciuto Corrado, la Gona, qualche anno fa ed è soprattutto l'anno scorso, in periodo di pandemia, che dalla paura appunto di quello che stava succedendo ho fatto un corso, intrapreso un corso con lui online e in me è scattata una grande voglia di fare meglio e questa voglia me l'ha fatta nascere lui, mi ha dato una carica e una grande preparazione sia per affrontare al meglio il paziente, per andargli incontro ma anche per affigliarmelo e i risultati vi assicuro che ci sono stati e io lo dico con grande soddisfazione e lo ringrazio con tutto il mio cuore perché probabilmente io sono arrivata ad avere 56 anni e avevo voglia di avere successo e di avere più stima in me stessa e di avere più voglia di fare perché poi il mio lavoro mi è sempre piaciuto però mai come adesso mi piace e io lo ringrazierò sempre e se avete voglia, se avete desiderio di avere più successo affidatevi a lui perché sicuramente avete la persona giusta che vi starà al vostro fianco sempre anche per consigli oltretutto grazie ciao a presto